La sua linea di collegamento anche architettonico attraverso l'incontro, attraverso lo scambio, attraverso la possibilità di scambiare appunto delle buone pratiche sia un aspetto che ci arricchisce tutti. Un grande scrittore diceva e ha scritto anche che la bellezza salverà il salverà. Io credo che attraverso la cura della bellezza e dell'armonia queste nostre comunità avranno sicuramente una grande prospettiva per il futuro. Grazie.